Buon pomeriggio Buon pomeriggio ragazze Sto facendo il caffè E comincio Così questo vlog Facendo il caffè In realtà In realtà Dobbiamo andare a comprare le cialde Stamattina siamo usciti E me le sono dimenticata Però ragazze siccome sta finendo Anche il caffè in polvere Non vorrei mai Rimanere senza caffè domattina Quindi adesso usciamo Tra poco Andiamo a comprare le cialde E poi devo andare a comprare Il Come si chiama La crema per le herpes Zovirac Ecco mi veniva il nome Perché mi è venuto le herpes E poi Ho finito l'amborbidente Io ragazze Non so Se voi Avete Questo problema Con gli amborbidenti Eppure io ne uso pochi Anche per co Per co Anche perché Sto cercando Di Utilizzarne di meno Rispetto a prima Per tanti motivi Per me Se i capi non profumano Non È come se non li avessi lavati Ragazzi vi ringrazio per I commenti Sotto all'ultimo video L'ho messo da poche ore E già Me ne avete mandati tanti Sia qui che su Instagram Messaggi privati Quindi grazie Veramente Mi avete fatto gli auguri Per la mia nipotina E poi mi scrivete Sempre cose belle Molto molto carine Molto affettuose In realtà Siete sempre state carine Ed affettuose con me E quindi Io non posso che essere Contenta e fiera Di voi E Mentre aspetto Che il caffè Venga su Frato Il caffè Lo vuole Vi faccio vedere Delle cosette Che ho preso Stamattina Tra l'altro ragazzi Settembre è un mese È un mese assurdo Per la mia famiglia Perché Ci sono un sacco Di feste Di compleanno E non Se vi faccio la lista Adesso abbiamo aggiunto anche Il battesimo Della piccolina Ieri Poi C'è Il compleanno Di mia nipote La grande Il compleanno Di mia cognata L'anniversario Dei miei genitori Che comunque Ovviamente Anche da mia mamma Non c'è più Ricordiamo Una volta c'era anche L'anniversario Del mio matrimonio Ora non c'è più Poi c'è il mio compleanno Mi sto dimenticando La cosa più importante E quest'anno Se Dio vuole Vorrei festeggiarlo Un pochino di più Proprio per celebrare la vita Noto che L'anno scorso Di questi tempi Ecco Non me la passavo Tanto bene Non che io sappia Come la sto passando adesso Spero di andare presto A fare I miei accertamenti Perché Veramente Non Vivere con quest'ansia È un po' Un po' Deleteria Ragazze Si è arrabbiato Si è arrabbiato Per tanti motivi È un arrabbione Il Grinch È un Grinch Arrabbione Allora Si è arrabbiato Perché L'ho messo Nell'intro Dello scorso video Mi ha fatto Un pippone assurdo Però Così impara Quando io Non ho la videocamera In mano A fare riprese stupide Anzi L'ho tagliato L'ho coperto Perché sono buona Sono clemente E si è arrabbiato Per questo Si è arrabbiato Per i miei acquisti Si arrabbia sempre Il Grinch È un arrabbione E Mi ha detto Non mi mettere più Nei tuoi video Non voglio più Apparire nei tuoi video Io Basta Quindi niente Abbiamo perso il Grinch Se siamo persi il Grinch Comunque ragazzi Prima che la videocamera Si Spenga Perché la batteria Lampeggia O forse Non farò mai In tempo Quindi è meglio Che prima La metto in carica E poi Ti vediamo Cosa c'è Nella mia busta Ecco poi Il Grinch Che è diventato prezioso Non vuole essere più ripreso Non si concede Comunque Cambio di programma Perché dobbiamo andare A prendere il caffè Nel frattempo La videocamera Si era scaricata Quindi ho dovuto chiudere Quindi Cambio di programma Andiamo a prendere il caffè E La pomada per l'erpes Se si muove Il Grinch Noi Ennesimo cambio di programma Ragazze Perché Il buon vecchio Grinch Ha deciso Che Dobbiamo andare All'MD Perché non può più vivere Senza le birre Dell'MD E deve passare Dai Jin Shin 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 la voce vuoi far sentire più e meno? allora, interpreterò io le sue mosse stiamo mandando dei cinesi e quindi ci vediamo dopo, non c'è parcheggio sbruffa, sbruffa non c'è parcheggio sbruffa il mio solito bicchierone d'acqua quando torno a casa e vi faccio vedere quello che vi stavo facendo vedere oggi pomeriggio sperando che la videocamera non mi lasci anche ora allora in edicola ho preso allora intanto il secondo volume di questa collezione qui che è dedicata alle grandi donne il secondo volume è dedicato a frida calo e non vedo l'ora di leggerlo a dire la verità non iniziato nemmeno il primo ancora però questo mi interessava di più quindi non è detto che non lega prima questo e poi quello questo 9,90 euro perché le uscite successive costavano appunto di più rispetto alla prima poi ho preso questo astuccio e voi direte perché perché rosa perché rosa pastello però anche perché mi serviva per mettere le penne all'interno e portarle in borsa quando appunto mi serva portare le penne all'interno e ho preso un altro pilot cancellabile viola l'avevo presa già l'altra volta ma l'ho ripresa perché appunto questa è quella che porterò con me mentre l'altra lascio qui sulla scrivania quindi questo è il astuccio che è molto carino perché piccolo vedete e comunque ci stanno tutte le penne è molto carino poi si piega e quindi l'ho preso insomma questo mi pare pagato intorno ai 6 euro e poi ho preso la settimana enigmistica oggi enigmistica insomma un giornalino di enigmistica perché adoro fare le parole crociate una volta le facevo sempre adesso ho preso un po' di abito che ne voglio farle anche perché è un allenamento per il cervello un'altra cosa che ho preso è questo aggeggio per il cellulare che è molto carino perché appunto ritraendo questo coso qui dietro si può appoggiare così e ci guardo i video tranquillamente poi lo si chiude e protegge il cellulare quindi è davvero molto molto carino sono rimasta traumatizzata dalla caduta del mio cellulare precedentemente subito dal mio piccolo cellulare e quindi adesso lo proteggo più che posso quindi c'è non soltanto la cover ci ho messo anche questa questo è il faccione del mio amore piccolino mio scusate se sto accioncicata ma non mi va di buttare la cica non mi va di buttare la gincoma perché è buona è buonissima l'ho preso l'md e adoro comunque ho preso zobirax rabbiale come vi avevo detto e poi una cosa ragazze ed è la prima volta che succede che qualcuno mi influenzi così fortemente e vi dirò di più è proprio la volta che succede che mi influenzi michelle unziker perché io non tanto la tollero mi fa proprio antipatia lei ed è strano perché di solito con le donne sono sempre solidale per esempio adoro vanessa incontrata tantissime altre adoro ma lei non lo so perché mi fa antipatia è comunque l'altro giorno fattusta che mostrava questo che è il no roma è questo qui di buvi sempre eccolo qua è pare di districhi i capelli in maniera quasi miracolosa pettinare i capelli non ne sarà più un dramma con lo spray districante 98,8 per cento di origine naturale aiuta a sciogliere i nodi rende i capelli pettinabili arricchito con olio di lino quindi pare essere miracoloso non lo so mi ha colpito al karité vaniglia vaniglia karité ma in effetti il profumo è buono comunque questo vi farò sapere sono passata dai cinesi e ho preso solo una cosa che però mi serviva dell'ennesimo che compro perché adesso voi siete su una specie di scatolone e quindi mi serviva ed è l'ennesima volta che lo compro un treppiedi allora gengino qui io ho scritto sicuramente andrà collegato ma io non so come forse va acceso ecco qua poi si fa così aspettate un attimo ragazzi perché io sarei capace anche di romperlo adesso in diretta ecco voi dovete sapere perché adesso io non capisco come questo ma forse così perché non ti alzi questa storia ecco qua vedete sono io per i rom in realtà senza stringere troppo parmene poi questo voglio provarlo e adesso adesso che devo fare scusa ho solo le foto fa non lo so ma lo scoprirò comunque molto carino perché comunque anche per fare video così vedi è figo proprio figo come state dai carinissimo poi ho anche scoperto come si usa il treppiedi per telefono non l'avevo mica capito e l'ho pagato 10 euro cosa molto importante ok adesso vi saluto perché voglio scoprire come si collega questo al telefono probabilmente dovrò collegarlo appunto continuo a bere la mia acqua il blog più vero di così non credo che ne troverete mai ciao a tutte e benvenute nella mia più o meno cucina allora ragazze oggi cucineremo stasera pasta con pasta con speck e gorgonzola che è una ricetta di famiglia che io facevo sempre quando stavo in casa con il papà e quindi stasera mi è venuta in mente il grinch voleva la pasta io volevo fare qualcosa di diverso rispetto al solito e quindi vado di pasta speck e gorgonzola probabilmente forse la conoscete tutti questa ricetta probabilmente questa ricetta la conoscete tutti e infatti non è niente di trascendentale però la condivido con voi anche perché ho detto ho chiesto ho chiesto all'antipatico di riprendermi perché volevo riprendermi e lui mi ha detto dai un senso al cavalletto che hai comprato allora intanto mi lavo le mani un goccino ino ino di olio perché poi comunque gra speck e gorgonzola ragazze ci sarà il festival dell'olio prendiamo questo speck lo facciamo così lo arrotoliamo e se la forbice taglia aiuto lo andiamo lo andiamo lo andiamo a tagliare e lo facciamo un po' rosolare questa forbice non taglia e il grinch non mi viene ad aiutare gorgonzola dolce perché a me piace dolce ragazzi se a voi piace anche piccato ci potete mettere quello che mi piace ok adesso andiamo a sciogliere la gorgonzola sul fuoco non ci aggiungiamo la panna perché lui non ce la vuole però qualcosina ce la devo aggiungere voglio un po' di lato questa è piccola no? ma mi ha abbinito il grongonzola altrimenti non si ok voilà l'alto di questa birra scura la nostra beffetta scura che è un po' a retrogusto leggermente crevallato guarda è buono ecco che è riva che profumino e buon appetito ragazze questa sera in notturna vi faccio vedere un po' le piantine molto velocemente perché guardate questa come è cresciuta stanno crescendo tutte qui ci sono i due bonsai che stanno bevendo la loro acqua queste sono quelle un pochino più bisognose di sole questa niente questa è mia morte è un'edera ma non riesco a farla prendere in nessun modo non riesco a farla attecchire mentre tutte le altre stanno diventando grandissime questo è il mio peperoncino che ha fatto i suoi peperoncini e li sto mangiando sono buonissimi e piccantissimi qua stanno bene tutte questo cresce a dismisura veramente poi da questa parte questo qua ha fatto i figlioletti io credevo di no perché questo l'ho proprio salvato l'ho recuperato tagliato pulito insomma guardate qua poi questi stanno bene quelli anche tutti bene questa è diventata gigante la ricordate quanto era piccola? è una di quelle con cui ho iniziato questa mia passione amore poi queste sono cresciute un sacco ragazzi guardate cioè veramente una cosa sorbitante questa qui anche sta diventando bella piena insomma tutte ragazzi tutte 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 guardate panoramica veloce questa finalmente sta prendendo piede anche questo sta crescendo questa qui anche ha fatto tanti più violetti guardate che bella tutte tutte qua stanno le piccoline questa qui la devo cambiare assolutamente perché sta diventando troppo spampanata per i miei gusti quindi devo metterla in un vaso più grande sicuramente comincerà a crescere di più questo è l'aloe che ho recuperato anche questo insomma stanno tutte bene buongiorno buona domenica doveva essere una domenica di svago passata a non mettere i piedi sulla macchina le scarpe doveva essere aiuto una domenica di svago avevo deciso di andare da tiger aiuto non si vede niente avevo deciso di andare da tiger a prendere un regalino per mia nipote per il compleanno perché fa il compleanno tra pochi giorni ecco volevo prendermi giusto un fanzierino simbolico e niente mia sorella ha chiamato me per dirmi che dovevano andare anche loro al centro commerciale però poi alla fine loro non vanno i bambini hanno sentito che vado io e vogliono venire con me quindi sto andando a prenderli le comprerò qualcosa e varrà per compleanno punto perché tanto io non posso poi durante la settimana poi io non potrò tornare più perché francesco lavora e io non sono auto munita quindi andrà bene così lo stesso adesso mi oddio mi faranno uscire fuori di matto perché sono così e infatti adesso li chiamo e do le ultime direttive perché altrimenti non vengono con me c'è il piccolino che è terribile tra l'altro qui di sera abbiamo visto un film abbiamo fatto tardissimo perché dopo anni e anni sono riuscita a vedere un film per me è tardissimo Francesco fa così con la mano per me era tardissimo perché era mezzanotte e mezzo quando è finito ed era il film un film che sicuramente avrete visto tutte e che tra l'altro avevo visto anch'io ossia Pearl Harbor allora io probabilmente anni fa quando lo vedi per la prima volta avevo un altro atteggiamento mentale non lo so probabilmente ero molto più romantico perché mi ricordavo un film che comunque raccontava la verità quindi quella triste verità in maniera un pochino edulcorata ovviamente perché comunque doveva essere un film però tutto sommato insomma mi era piaciuto ieri l'ho rivisto con un altro spirito non lo so in alcuni pezzi mi faceva ridere non so non so spiegarvi però alla fine comunque il film era ben fatto il cast il cast è eccezionale e quindi beh io sono un'amante del cinema del cinema dei film e quindi quando trovo un film che mi piace non mi addormento mai diciamo che non guardo i film la sera perché non ce ne stanno mai non ne fanno mai di belli però questi film così se avessi infatti adesso stiamo pensando di fare un modo di di potervi vedere di fare un qualche abbonamento qualcosa non lo so perché poi alla fine tra tutte le priorità che abbiamo questa cosa passa in ultimo in ultimo piano però effettivamente dormire addormentarsi alle 9 di sera non è una cosa bellissima ok il mio air pass è qui è sotto sotto insomma qui i capelli sono alla cavolo alla membro di l'ebriero e il grinch mi diceva non potevamo andare al mare effettivamente mi giro a destra e vedo un mare spettacolare però io avevo fatto questa cosa per fare la sorpresa a mia nipote se avessi saputo che mia sorella me le avrebbe appioppati ecco non l'avrei fatta l'ho fatta proprio per questo motivo perché comunque poi in settimana ripeto non potrò andare a prenderle il regalino e per quello che voglio prenderle io solo tiger è accessibile ma il mare non ce le faccio a tenere queste giornate così piene c'è un mare spettacolare ragazze comunque questo cavalletto acquistone dopo la borsa furla e il portafoglio furla questo cavalletto non potevamo vivere non possiamo più vivere no guarda questo cavalletto è l'acquistone dell'anno ah tra l'altro ho imparato ieri avete visto che stavo armeggiando per capire come si usava il l'agggino bluetooth l'ho capito ed è una figata figata aspettate guardate un'altra figata comunque deserta la spiaggia vabbè vado a prendere i diepoletti non mangiate quelle caramelline frizzantine no e voi dove sono sono il benzaino quelle allo stretto no quelle frizzanti il zaino ma c'è solo uno no ce ne sono due quella con il tuo zaino e quella con il mio eccoci qua noi andiamo a prendere uno yogurt adesso facciamo una bella colazione di metà mattina ci prendiamo uno yogurtino e poi ce ne andiamo a casa i bimbi mi hanno si i bimbi mi hanno ovviamente spulicato esce Elide che poi mamma i bimbi mi hanno ovviamente spulicato e poi mamma si arrabbia va bene andiamo a prendere lo yogurtino andiamo a prendere andiamo a prendere Bimbi parcheggiati e abbiamo preso i ravioli per pranzo, noi i ravioli, attenzione, i panzerotti ripieni di ricotta e spinaci che sono i miei preferiti. Grazie a tutti.